Buongiorno a tutti, con questo video intendo descrivere, andare a commentare le giornate caldissime della metà del luglio del 1941 riguardanti la proclamazione del protettorato italiano sul regno indipendente del Montenegro e le successive rivolte popolari e anche militari che vi furono con una situazione piuttosto complessa. Vi accenerò a questi argomenti facendo riferimento al diario di Ciano e al diario del generale Puntoni, prima aiutante di campo del sovrano. Ma andiamo per ordine e iniziamo dal diario di Ciano. Il 12 di luglio viene proclamato questo protettorato e vediamo cosa comporterà nella realtà socio-politica di questo importante territorio. Allora, ex Jugoslavia, 14 luglio, disordini in Montenegro, sparatori di bande e assalto alla villa reale di Budva? Sembra che ciò non sia in connessione con la costituente, ma la coincidenza degli avvenimenti è perlomeno strana. Intanto abbiamo rinviato l'arrivo dei montenegrini a Roma e su indicazione del re la reggenza sarà assunta da tre montenegrini anziché da mazzolini. Il duce è furioso con i militari che lo ingannano. Gli avevano assicurato che la gabbè eccetera eccetera, la gabbè eccetera, la gabbè eccetera, la gabbè eccetera. Continuiamo, 15 luglio, in Montenegro abbastanza male, la capitale è isolata e tutte le vie d'accesso sono bloccate dai ribelli. Abbiamo andato forze dall'Albania. Andiamo avanti, 17 luglio, continua la sollevazione montenegrina, anzi sta prendendo proporzioni sempre maggiori. Se non avesse un profondo amaro significato sarebbe grottesco. È in atto una guerra tra l'Italia e il Montenegro. Speriamo che i nostri militari arrivino a risolverla senza dover chiedere l'intervento tedesco. Ecco, ecco, continuiamo a chiedere inevitabilmente l'intervento tedesco. Mussolini come al solito parla in tono acre dei militari e dice che ama un solo generale, mi sfugge il nome, il quale in Albania disse ai suoi soldati, ho sentito dire che siete i buoni padri di famiglia, ciò va bene a casa vostra, non qui. Qui non sarete mai abbastanza ladri, assassini e stupratori. Bene, come programma è veramente, veramente interessante. Mi viene in mente una citazione cinematografica. Il film Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks, in cui appunto si faceva l'elencazione dei titoli di merito nelle varie ruberie, oppure l'elencazione di Tuco in Il buono, il brutto e il cattivo. Quindi anche qui abbiamo degli elementi e fa curriculum essere ladri, assassini e stupratori. E diciamo che non ci siamo fatti mancare niente negli anni successivi nei Balcani e non solo. Qualche altra cosa di interessante. Sì, 19 luglio, alcuni battaglioni hanno raggiunto Cettigne, quindi la situazione nel Montenegro, pur non essendo risolta, è notevolmente alleviata. Diciamo che queste sono le cose più interessanti che ci annota Ciano, ma andiamo a vedere cosa bolle in pentola al Quirinale, sapendo come il sovrano è particolarmente sensibile al Montenegro, visto che ha la moglie e i suoceri montenegrini. Allora, eccoci qua. Passiamo al 12 luglio, anche per il sovrano. Il sovrano mi conferma per domani la partenza per Roma. Mi dice che i bulgari non verranno più perché il presidente del consiglio è malato. Secondo il sovrano si tratta di una malattia diplomatica, dato che in questi giorni sono in discussione i confini tra Bulgaria e Albania. Non essendo presenti i delegati bulgari, la delimitazione dei confini sarà fatta all'Italia e la Bulgaria si sentirà pertanto libera da ogni responsabilità. E giustamente. Il re mi comunica inoltre che il giorno 16 ci sarà la cerimonia per il Montenegro. La delegazione richiederà un reggente per la corona del Montenegro, che sarà una monarchia costituzionale. Da alcune frasi ho netta la sensazione che le cose non sono andate per il loro verso e che il sovrano è irritato e preoccupato per l'atteggiamento del nostro governo, che non ha mantenuto le promesse fatte a suo tempo. Abbiamo dall'altra parte la campana di Ciano che abbiamo letto. Sua maestà teme che in Montenegro possa scoppiare, possano scoppiare i moti di rivolta. E diciamo che i moti di rivolta ci saranno. 14 luglio. Anche questa volta il re ha visto giusto. Purtroppo l'azione per la delimitazione dei confini con il Montenegro ha ignorato le aspirazioni di quel popolo fierissimo e intransigente. Sono comparsi i nuclei di ribelli che sobbillati dai serbi e dai comunisti locali hanno attaccato i nostri reparti. Una colonna è stata assalita, ci sono stati due ufficiali e 13 soldati morti. L'accaduto ha consigliato di rimandare la cerimonia che ci sarebbe dovuta svolgere dopo domani mattina. Sua maestà scuotendo la testa ha detto non mi hanno voluto dar retta. Ecco i risultati. Ritengo che l'udienza con Mussolini che c'è stata alle nove di stamane sia stata alquanto burrascosa. 15 luglio. La situazione in Montenegro si fa di ora in ora più grave. I ribelli cercano l'isolare i cettini. Il conte Mazzolini ha richiesto l'intervento delle truppe dall'Albania. Sua maestà ritiene che tutta la responsabilità rigata sul nostro Ministero degli Esteri. Ehehehe il buonciano. Tra l'altro è stata commessa una grossa gaffa. Nel salone dove si è tenuta l'assemblea che ha deciso delle sorti del Montenegro campeggiava un ritratto di Mussolini. La foto di re Nicola era stata relegata in un angolo. Mussolini deve sempre esserci. Inoltre la bandiera del Montenegro era stata collocata tra due bandiere tricolori. Tutto ciò ha inasprito gli animi dei patrioti montenegrini i quali vogliono una indipendenza reale e non una libertà nominale. Aizzo da Belgrado i comunisti locali hanno sferrato quindi la loro offensiva ricorrendo alla guerriglia. 17 luglio. Quando oggi mi sono regato alla relazione ho trovato Sua Maestà intento a compilare un memoriale sulla situazione montenegrina. Ha detto voglio che Mussolini conosca per iscritto il mio pensiero dal momento che le parole non sono servite a nulla. Un comando di corpo d'armata è stato inviato sul posto insieme con gruppi di alpini e con la divisione Taro. Da confidenze che il re ha avuto dal barone Villani, ex ministro d'Ungheria a Roma, ricevuta in visita di congeto, sembra che il conte Teleki si sia realmente ucciso perché il trattato da lui patrocinato e concluso con l'Ugiaslavia non ha dato i frutti sperati. E qui c'è qualcuno che ha la bontà di suicidarsi. 22 luglio. Durante la relazione il sovrano mi parla del suo colloquio con Mussolini. Ho trovato il duce arrabbiatissimo, dice, per quanto sta succedendo in Montenegro e per il modo in cui sono state condotte le operazioni militari. Io ho accennato tra l'altro ad alcune cose che formano oggetto di pettegolezzo in molti ambienti della capitale e che sarebbero purtroppo vere. Si tratta di sassi lanciati nella folta piccionaia di Ciano. Nell'ambiente del ministero degli esseri, in molti salotti romani e presso l'alta società, si continua a dir male dei tedeschi. È pericolosissimo perché il governo germanico è in grado di essere informato di ogni voce. Si ha poi l'impressione che tutti i pettegolezzi riscuotono il consenso di Ciano, il quale non riesce mai a tenere la lingua fra i denti e la bocca chiusa, neppure quando si tratta di questioni che dovrebbero rimanere segrete. Il re aggiunge, ho detto poi a Mussolini, che ho saputo come piuttosto spiacevoli e compromettenti riguarda suo genero. È stato fatto l'inventario delle sostanze lasciate dal vecchio Ciano ed è risultato che il suo patrimonio ammonta a 900 milioni di lire. Anche il duce ha strabuzzato gli occhi ed è rimasto senza fiato. Mi è parso che non ne fosse al corrente e che la notizio l'abbia sorpreso molto. Mi ha parlato anche di un'azione giudiziaria per questione di eredità che sarebbe stata promossa dal conte magistrati, vedovo di una sorella di Galeazzo. Mussolini ha ascoltato sempre in silenzio scuotendo ogni tanto la testa e passandosi la mano sulla fronte. In seguito abbiamo parlato della questione albanese. Gli ho detto della decisione del Ministero della Guerra di ridurre la guardia albanese e di modificarne i quadri per evitare attriti con le autorità locali. Il duce ha trovato giustissime le mie osservazioni e ha soggiunto. Non capiscono mai nulla, si dà un ordine e fanno il contrario. Diciamo che la situazione è particolarmente complessa, nel senso che qui come al solito si fa un po' di scarica a barile. È la colpa di Ciano, di Mussolini, dei generali, delle autorità locali, dei soldati. È come al solito sempre la stessa, e dei tereschi, è sempre un po' la stessa storia, ma da quello che emerge in maniera sostanziale è che qui tutti chiacchierano, tutti si prendono le responsabilità decisorie, ma nessuno si prende poi a fine la responsabilità delle vere scelte e dei risultati veramente catastrofici che queste scelte maldestre poi portano. Quindi è un altro spaccato molto interessante per la comprensione più complessiva delle varie sciagure che sono piombate sul paese, Italia, sulle forze armate, sull'aspetto, per delle scelte veramente avventate di Mussolini, del genere Ociano e di tutta un'altra serie di comprimari, di corteggiani che circolava intorno a Giacomoli, abbiamo parlato fino veramente alla stanchezza, Cavallero, eccetera, e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, come al solito invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!